Un saluto a tutti i clienti di TheSkamoShop, in questo video vi presenteremo un volante compatibile per Nintendo Wii. Vediamo subito all'interno della confezione che cosa ci viene dato. Eccolo qui, è un semplice volante per la Nintendo Wii, perché è compatibile. Vediamo che grazie a questo buco riusciamo a capire la giusta direzione del telecomando. Qui è stato fatto per un solco giusto e preciso per il telecomando della Wii. Questa è l'impostazione del telecomando. Questo qui è il pulsante per poter prendere i tasti del telecomando sottostante. Grazie a questo buco riusciamo a capire la direzione del telecomando, perché qui dovrebbe andare la parte del ricevitore, la parte ricevente del telecomando, altrimenti il telecomando non è possibile usarlo. È fatto in plastica molto dura, è possibile aprirlo, sopra ci sono delle viti. Ecco, un prodotto molto semplice, compatibile, da un costo molto molto contento. Bene, con questo ho concluso. Ringrazio i clienti di Escano Shop e vi do appuntamento alla prossima.